come ogni domenica appuntamento sulla mia digital bench settore sport oggi mi trovo sulla mia panchina originale a scanno e ho appena terminato il mio allenamento sportivo allora in attesa dell'arrivo del mio prossimo bench mate che sarà uno sportivo e ci parlerà di tutta una serie di cose molto interessanti relativa alla sua disciplina sportiva oggi vi racconto io una cosa che piace particolarmente al cervello quando noi facciamo attività sportiva il cervello nel momento in cui iniziamo a fare sport rilascia delle sostanze chimiche che si chiamano endorfine le endorfine sono dei regolatori dell'umore quindi fare sport ha a che vedere anche con la nostra felicità felicità intesa come competenza da allenare noi possiamo essere felici ogni giorno anche semplicemente attraverso un'attività sportiva quindi fate sport cercate di abituare il cervello a rilasciare endorfine e regolare il vostro umore lo sport fa bene alla nostra felicità